Sindaco, non ci sono più di vieti, il mare di Pescara è tornato pulito, qualcuno direbbe finalmente. Forse questo coincide col fatto che stanno iniziando i giochi del Mediterraneo che sull'acqua si svolgono. E' tornata la balneazione nel tatto di Fosso Pretaro al confine fra Pescara e Francavilla che aveva dato delle criticità. Poi il resto era in ordine dal 1 agosto e segnatamente la questione diciamo Madonnina via Balilla. Io tuttavia ritengo che si sia fatta una eccessiva enfatizzazione su questo dato perché la qualità complessiva dell'acqua nella stagione balneare che volge al termine non è stata diversa da quella del passato, da quella del 2014, da quella del 2013 e giù andare. Certo questo pone di attualità stringente il fatto che il mare è un bene prezioso e il suo inquinamento non è frutto del caso, è frutto del fatto che le altre acque, quelle dolci del fiume portano detriti e veleni. E quindi bisogna naturalmente porre al centro dell'agenda politica la tutela del sistema acqua nel suo complesso a cominciare naturalmente dalla rinaturalizzazione dei fiumi. A questo punto l'inchiesta va avanti, tutti vogliono sapere cosa è accaduto e in primis credo anche il primo cittadino di Pescara. Il primo cittadino sa benissimo cosa è accaduto in ordine all'attività del comune di Pescara e evidentemente però questa è una partita ampia che involge tanti soggetti istituzionali. Noi da parte nostra abbiamo sempre fatto appunto il nostro, continuiamo a farlo, continuiamo a farlo però con la consapevolezza che poi si rema insieme, per usare una metafora marinara, nella stessa direzione che è quella dell'attenzione alla salute pubblica che per ribadirlo un'ulteriore volta mai è stata messa in pericolo. Mi dispiace che ci siano stati questi allarmismi estivi che francamente appartengono a un modo di fare politica atteso ad alimentare la paura, io non lo condivido, penso che sia espressione di vuoto politico, però succede anche questo sotto il sole di agosto.